al 135 della central park west c'è il langham che venne progettato per essere l'edificio residenziale più lussuoso di tutta la città era dotato fu tra i primi ad essere dotato di un sistema di riscaldamento centralizzato inoltre aveva un sistema di smistamento automatico della posta agli appartamenti tra i residenti più illustri si ricorda esador sacks fondatore dell'omonimo store sulla fifth avenue